Ricreare fiducia e risollevare il morale di cittadini e turisti, restituendo loro i quattro volti dorati di pra-prom, questi, secondo il ministro della cultura tailandese, i obiettivi della restaurazione dell'altare di Erawan a Bangkok. Sotto lo sguardo attento della polizia, i fedeli sono tornati a pregare davanti alla statua, che rappresenta l'incarnazione locale del dio induista Brahma, il tutto a soli 18 giorni dall'esplosione, che ha fatto 20 vittime. Le indagini sull'attentato proseguono, due persone, entrambi stranieri, sono stati fermati e in alcuni appartamenti della città sono stati ritrovati materiali per costruire ordigni. Vista la nazionalità turca di almeno due dei nove sospetti, avanza l'ipotesi di una vendetta per il rimpatrio forzato a luglio di oltre 100 cittadini uiguri, minoranza turcofona che vive in Cina.